Ciao a tutti, oggi faremo insieme un buonissimo tè freddo al limone. Ci serviranno un limone non trattato, tre bustine di tè classico, un litro di acqua e 75 grammi di zucchero simulato. Iniziamo pelando la buccia del limone. Ci aiutiamo con un pè da patate e ricaviamo solo la parte gianda. Mi raccomando, utilizzate il limone non trattato in modo che la buccia sia irribile. Una volta eliminata tutta la buccia, esprimiamo anche il zucco. Inseriamo anche il zucco del limone. Lo zucchero. E il litro di acqua. Ovviamente lo zucchero potete anche ridurre la dose o aumentarla, piacere. Oppure potete anche non metterlo, se preferite un tè senza zucchero. Adesso mettiamo sul fuoco e lasciamo bollire per 4-5 minuti. Quindi il procedimento per fare il tè al limone è lo stesso di quello che aveva fatto Martina per fare il tè alla pesca. L'unica differenza è che l'acqua con le pesche, quando l'ha fatto Martina, l'abbiamo fatta bollire per 2-3 minuti. Invece qua le faremo bollire per 4-5 minuti, quindi qualche minutino in più. Dopodiché spegneremo il fuoco e metteremo le bustine di tè. Come lo avete chiesto anche nel tè alla pesca, il tè che utilizzo le bustine sono bustine di tè classico, anche quello alla pesca. Però potete utilizzare il tè che preferite, quindi ad esempio anche il tè verde, il tè nero, quello che in generalmente utilizzate in casa. Adesso mettiamo a bollire l'acqua con il limone. Portiamo sul fuoco e mescoliamo un pochino con il cucchiaio per far sciogliere lo zucchero. Adesso inizia a bollire e lo lasciamo bollire per 4-5 minuti. Trascorso il tempo di ebollizione spegniamo il fuoco e mettiamo le nostre bustine di tè. E adesso lasciamo in infusione per 5 minuti. Passati 5 minuti eliminiamo i filtri del tè. E adesso lo filtriamo all'interno di una bottiglia o una caraffa. Qui ho la mia bottiglia con il burto e il colino. Adesso lo lasciamo raffreddare bene e poi lo mettiamo in frigo. Ed ecco qua il nostro tè freddo al limone. Adesso lo assaggio io, non essendoci bambini ne approfitto io. Buonissimo, buonissimo anche questo al limone. E voi cosa preferite? Tè freddo al limone o alla pesca? Scrivetemelo nei commenti. Ciao a tutti!